Ma come siete belli, madonna i denti così ce li aveva mia nonna Ci mancava pure la tempesta, ci mancava Vendo un po' sfocato o sono io che sto perdendo gradi all'occhio? Ok adesso si vede bene E buonasera e lei chi sarebbe? E niente Niken è sempre Niken Cioè a me sembra che più è passato il tempo e più insomma ha sempre quella fiducia che non svanisce mai E' sempre il solito Niken Cioè quello che abbiamo visto prima dell'abbandono di Rick non era così Era più... Era più debole, no? Ha mostrato un po' di più la sua debolezza Questo invece è più cazzone, più cazzuto Mi piace vedere Gabriel così Dopo averlo visto con Rosita è una soddisfazione Niken che lo tratta un po' male Ma questo l'avevo capito anch'io sinceramente Vale sempre tesa, c'è sempre qualcosa che deve fare stare in ansia a tutti Ma dò che angoscia mi sciombo Finalmente si ride, cioè ma non l'ho neanche detto Non l'ho neanche finito di dire e già ha reso Cazzo finalmente non ride mai Ma che cazzo Ecco Nooo Oh no Ma perché sta coppia? I nuovi amichetti di Harry Ma perché stanno dando così importanza a questo personaggio? Cazzo me ne frega Per ora e poi magari Boh più avanti diventa interessante Ma adesso Cazzo bene La mia povera Rosita Ehi Buongiorno Oh 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 L'hanno trovato L'hanno finalmente trovato Madonna mia Ed è da un giorno che sta lì dentro Non ha mangiato Proprio zero Tutto sto tempo lì dentro Poi faccio Benvenuti a Ritardolandia Quell'altra perché se ne va? Cioè È sempre stata con loro Non è mica loro perché se ne va? È sempre stata con loro perché se ne va? Ho bevuto un sorso di non so che cosa Già è stremato Che esagerazione È sempre stato con loro perché se ne va? Ma non mi dire che è aperta la porta Perché è aperta la porta adesso Che cazzo l'ha aperta la porta Mi sarò perso un passaggio Non lo so Quella faccia da quando non la vedevo Oddio, oddio, oddio Eh qua Qua son cazzi Ragazzi dai Che cazzo di posto è? Cos'è un cimitero? Che cazzo è? Da dove è uscito fuori sto posto? E vai Ovviamente il cancello non si apre Figuriamoci Sì come cazzo sa là sopra Non ce la fa Già lo so Non ce la fa La madonna Eh ma son tanti Eh ma son tanti eh Son tanti Fum Fum Vada Che succede perché è questa tranquillità Adesso Arrivano i soccorsi Vai 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 Da che cazzo sono sbocati Dai 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 Vai 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 Che cazzo sto cancello Vai 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 Cazzo Cazzo questa non me la spe... Ma è morto, cioè è proprio morto o è stato solo perito? Eh ma cazzo gli ha tirato il... Cazzo era il pugnale nella schiena? Oh no... 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 Grazie. Una maschera? Una maschera? E quindi vuol dire che? Ecco, che sono umani. Non sono gli zombie che si stanno evolvendo come molti pensavano. Che c'è ancora? No, finisce così. Porco...